Aveva letteralmente sigillato il cadavere del padre nella sua stanza da letto al quarto piano dello stabile di via del Pratello 3 a Roiano. Il 91enne Alberto Martini era morto da almeno un mese, forse addirittura due, ci ha riferito il medico legale Fulvio Costantinides a cui ha affidata l'autopsia. La figlia a 60enne Daniela, dopo averlo trovato riverso a terra a seguito di una caduta conseguente a un malore, questa l'ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, lo ha coperto con alcuni asciugamani e una coperta, poi presumibilmente non riuscendo ad accettare la scomparsa del genitore, non ha allertato nessuno, decidendo di sigillare la porta di quella camera da letto con del nastro isolante, chiudendola a doppia mandata. La donna ha poi proseguito con la propria vita di ogni giorno, ma i vicini hanno iniziato a notare il forte odore che proveniva dall'appartamento. La sessantenne, in cura al vicino centro di igiene mentale, ha però sempre negato che provenisse da casa sua. Alcuni condomini hanno pure iniziato a sondare altre possibili origini degli insopportabili miasmi, chiamando in causa anche la Cegas. Oggi però la provenienza degli odori è risultata evidente a diversi inquilini, che hanno quindi allertato polizia e vigili del fuoco, intervenuti in forze per risolvere la questione, facendo l'inquietante scoperta. La donna, sotto shock dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stata trasferita all'ospedale in ambulanza, mentre il cadavere del 91enne resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, anche se, al momento, tutto farebbe pensare all'ipotesi della morte naturale.